Buongiorno a tutti, sono Tiziana Iervese e sono un medico in servizio presso l'unità operativa di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Sono anche rappresentante del gruppo di lavoro aziendale Accoglienze e prese in carico in pronto soccorso delle vittime di violenza. Nella settimana dedicata alla salute della donna promossa e sostenuta dalla Fondazione Onda, questo contributo si pone due obiettivi fondamentali. Il primo obiettivo è quello di mantenere alta l'attenzione e la sensibilità nei confronti della tematica della violenza contro le donne, quindi della violenza di genere. Il secondo fine è quello di portare a conoscenza della popolazione il protocollo aziendale che risulta operativo nei pronto soccorsi della USL della Romagna, che guida i professionisti dell'emergenza nel percorso di accoglienze e prese in carico delle donne che subiscono violenza di genere. Abbiamo la necessità all'inizio di questo breve percorso insieme di fare alcune premesse. La violenza rivolta nei confronti delle donne è un fenomeno molto complesso ed articolato che coinvolge non soltanto aspetti sanitari e psicologici, ma anche sociali, legali e giuridici. Ne consegue quindi che l'accoglienza e la presa in carico di questa popolazione di utenti che possono rivolgersi sia alle unità operative di emergenza-urgenza, ma che possono accedere anche ad altri punti sanitari e territoriali e anche attraverso altre istituzioni non sanitarie, non può prescindere dal coinvolgimento di altri attori che sono chiamati in maniera congiunta a rispondere al bisogno di questa popolazione. Tant'è vero che ormai da tempo si parla di approccio di rete multiprofessionale ed interistituzionali di contrasto al fenomeno. Nonostante quotidianamente ci confrontiamo con gli effetti devastanti della violenza di genere o violenza contro le donne, tale realtà risulta tuttora scarsamente conosciuta, generalmente sottostimata, a volte erroneamente interpretata e spesso oggetto di pregiudizio, di giudizio negativo, intolleranza ed insofferenza. Si tratta di un fenomeno che non appartiene alla sfera delle marginalità, del disagio sociale o della malattia mentale, bensì coinvolge tutte le classi sociali, le professioni, i livelli educativi, le culture, le religioni e addirittura la cosiddetta normalità. L'origine della violenza di genere affonda le sue radici nella disuguaglianza di genere che è mantenuta da pregiudizi, stereotipi e da una profonda cultura patriarcale che purtroppo continua a permeare i servizi sanitari, quelli educativi e sociali, sistema giudiziario, i media, le classi politiche, ed è per questa ragione che le donne che trovano il coraggio di denunciare si trovano spesso a dover fronteggiare il fenomeno della vittimizzazione secondaria, ovvero vittimizzazione da parte di quelle istituzioni che nella realtà dovrebbero fornire tutela e protezione. Indipendentemente dalla forma di violenza che viene subita, a volte in forma unica o a volte in forma plurima, la violenza ha sempre un impatto negativo sul piano emotivo e psicologico oltre che sulla salute fisica e l'Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 1995 metteva in evidenza come la violenza verso le donne rappresenta in tutto il mondo un fattore ziologico e di rischio non soltanto per patologie che riguardano la sfera sessuale o di tipo traumatico ma anche di tipo internistico e di tipo psicologico e questo purtroppo ha degli importanti ricadute sul sistema sanitario e sul mercato del lavoro. La conferenza dell'Assemblea Mondiale della Salute nel maggio 1996 decretava che la prevenzione della violenza è una priorità di salute pubblica e quindi è necessario coinvolgere, sensibilizzare e formare tutti gli operatori sanitari ma anche non sanitari al fine di riconoscere, trattare e prevenire tutte le conseguenze della violenza sulla salute psicofisica anche nelle generazioni future. È infatti dimostrato che coloro che subiscono violenza in età infantile o adolescenziale nella fase adulta tenderanno a perpetuare la violenza o come vittime della stessa oppure come autori, quindi è necessario nei confronti dei bambini e dei ragazzi svolgere un'importante prevenzione di tipo primario. Guardando le dimensioni del problema già dai dati ISTAT del 2007 che sono stati evidenziati nel report violenza e maltrattamento contro le donne dentro e fuori la famiglia, si documentava come oltre 6 milioni di donne nella fascia di età tra i 15 e i 70 anni, affermavano di essere state almeno una volta nella vita vittime di maltrattamenti o violenza sessuale. Secondo le ricerche portate avanti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017, in riferimento ai paesi industrializzati, si stima che più del 30% delle donne subisca nel corso della propria vita maltrattamenti fisici o sessuali da parte di un partner o un ex partner. La violenza domestica risulta essere un fenomeno molto frequente con tendenza a ripetersi fino alla cronicità. In merito alle caratteristiche dell'autore di violenza è dimostrato che nella maggior parte dei casi colui che offende la donna e colui che agisce violenza appartiene o alla sfera sentimentale o a quella amicale o a quella familiare. È molto poco frequente la violenza agita da parte di persone sconosciute. Dai dati emanati dal nostro Ministero della Salute che prendono in considerazione il triennio che va dal 2017 al 2019 risultano che sono 16.140 le donne che fanno ricorso ai pronto soccorsi del territorio nazionale per le conseguenze di episodi di violenza. Queste donne sono spesso vittime di violenza reiterata e quindi a motivo della violenza ricorrono più spesso in pronto soccorso. Ed inoltre le stesse donne hanno un numero elevato di accessi in pronto soccorso apparentemente per cause non correlate al vissuto di violenza. Questo fa pensare comunque che la violenza determini per queste donne una particolare condizione di fragilità sul piano fisico e psicologico. Se guardiamo i dati che riguardano il territorio dell'azienda sanitaria della Romagna risulta che ogni anno un numero compreso tra 800 e 900 donne che subiscono violenza si rivolgono ai servizi del pronto soccorso. Quando noi parliamo del ricorso al pronto soccorso della donna con esperienza di violenza è importante considerare questo momento critico e delicato e i professionisti sanitari dell'emergenza di ciò devono avere una grande consapevolezza. La donna ricorre e chiede aiuto ad un'istituzione o al pronto soccorso o ad altri punti della rete dopo una lunga storia di discriminazione sopruso, a volte privazione di libertà, lesioni fisiche, psicologiche che spesso vengono consumate sotto lo sguardo di figli minori che direttamente o indirettamente sono partecipi di questo vissuto. Di solito la donna prende una decisione estrema, si tratta di un atto di coraggio e a volte un momento irripetibile ed è per questo motivo che professionisti sanitari devono essere pronti a cogliere questa richiesta di aiuto. È ormai da numerosi anni che all'interno dei pronto soccorsi sono stati elaborati e vengono applicati dei protocolli che guidano sia la fase di accoglienza che quella di trattamento come anche la fase di dimissione protetta o ricovero di questa popolazione di pazienti. Dall'avvento dell'azienda sanitaria della Romagna, che nasce dall'unione di precedenti aziende sanitarie delle province di Fordicesena, Ravennerini, si è costituito il gruppo di lavoro accoglienze presa in carico in pronto soccorso delle vittime di violenza ed abuso, con la finalità di garantire una uniformità di assistenza e di comportamento da parte dei professionisti sanitari dell'emergenza nei confronti di persone che subiscono episodi di violenza, con particolare riferimento ancora una volta alle donne vittime di violenza di genere. Il gruppo di fatto è costituito da medici ed infermieri rappresentanti di ogni pronto soccorso aziendale, ma ha visto anche il contributo sensibile, attento e competente dei professionisti della rete della psicologia ospedaliera e di quelli dell'area sociosanitaria, questo nell'ottica in ambito sanitario di garantire un approccio di rete. La procedura che è stata elaborata, oltre a definire tutte le tappe del percorso sanitario all'interno del pronto soccorso delle vittime di violenza abuso, sia la fase di accoglienza, sia la fase diagnostica terapeutica, sia la fase di dimissione, si pone anche l'obiettivo di fornire all'utente una informazione in merito alla rete esterna del mondo sanitario, che ha però un'importanza fondamentale nel cammino di tutela e riabilitazione e ricostruzione della persona offesa. La procedura aziendale 109, che è operativa fin dall'ottobre 2017, è risultata successivamente del tutto coerente con quanto previsto dalle linee guida nazionali in merito a questa problematica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24 novembre 2017. In questo senso siamo stati leggermente antesignani. Oltre alla procedura aziendale Principe, la procedura aziendale 109, sono successivamente state elaborate ulteriori procedure che hanno preso in considerazione aspetti particolari del percorso della donna vittima di violenza. In particolar modo ci riferiamo alla procedura aziendale 101, che considera la tematica della gestione, raccolta e conservazione dei materiali prelevati con finalità medico-legale, soprattutto in occasione di sospette e violenze sessuali. La procedura aziendale 106, che considera la presa in carico e trattamento degli uomini autori di violenza di genere, e inoltre la procedura aziendale 219, che pone un focus sulle fasi dell'intervento ospedaliero nei confronti di bambini e ragazzi vittime di abuso e maltrattamento. Nella realtà la nostra procedura si pone diversi target di riferimento. Abbiamo già parlato di bambine vittime di violenza e maltrattamento, di donne vittime di maltrattamento o e violenza sessuale, ma la procedura aziendale prende anche in considerazione la popolazione degli adulti fragili vittime di violenze ed aggressioni. Su questa tematica c'è ancora molto lavoro da portare avanti, anche perché si tratta di una popolazione che richiede particolare sensibilità e attenzione. Vedete qui riportati appunto i pazienti che vengono presi in considerazione nella procedura aziendale 109. Questa immagine che mi preme riportare è stata elaborata con l'obiettivo di rafforzare il concetto di approccio multiprofessionale al problema della violenza in sede ospedaliera. A seconda delle necessità infatti il medico di pronto soccorso potrà avvalersi delle competenze di specialisti che sono tutti quanti chiamati, a seconda dell'opportunità, della necessità, a tutelare il percorso di salute della donna. Analogamente a quanto avviene all'interno del pronto soccorso all'interno dell'ospedale sarà necessario porre l'attenzione anche riguardo ad altre istituzioni che sono coinvolte con le loro particolari competenze nel percorso di fuoriuscita della donna o dalla vittima. Ci riferiamo in questo caso in particolar modo alle donne vittime di violenza di genere percorso di fuoriuscita dal vissuto di sofferenza e dalla spirale di violenza. È quindi importante stabilire delle connessioni con tutta una serie di istituzioni che hanno competenze peculiari e quindi vediamo come di volta in volta possano essere coinvolti in questo percorso forze dell'ordine, istituzioni di tipo legale e giuridico, i centri antiviolenza, le strutture sanitarie territoriali come anche la rete sociosanitaria, i centri per uomini autori di violenza ma anche i comuni, la scuola, l'università in una rete che deve essere estremamente forte ed estremamente stretta per evitare che la donna possa essere perduta in questo percorso di affrancamento. Queste stesse istituzioni che stabiliscono una connessione con l'ospedale nella realtà possono essere punti di accesso iniziale della donna che cerca una qualche forma di aiuto per poter iniziare appunto il suo percorso di empowerment. Quando andiamo a guardare le fasi del percorso sanitario in pronto soccorso possiamo evidenziare diversi momenti. Sicuramente uno dei più critici e delicati, indipendentemente dalla modalità dell'accesso in pronto soccorso della donna sola o accompagnata, è la fase di accoglienza in triage. Il personale infermieristico che è addetto a questa azione e questo momento dovrà accogliere la donna prestando la massima attenzione ad intercettare ogni segno di violenza anche quando non dichiarata, quindi sarà molto importante fare attenzione al linguaggio verbale e non verbale. Oltre ad alcune prassi burocratiche che non stiamo a sottolineare in questa fase, quello che è importante è che dopo la prima valutazione del caso l'operatore o l'operatrice presente al triage procederanno all'attribuzione di un codice di priorità. L'attribuzione del codice ha l'obiettivo di tutelare il percorso preferenziale della paziente e non correla necessariamente alla gravità delle lesioni oggettivate. Si tratta di facilitare il prima possibile l'accesso ad un ambulatorio e la presa in carico da parte dell'equip medico-infermieristica. Nell'attesa di questo passaggio ambulatoriale la donna viene accompagnata in un'area riservata dove possa trovare tranquillità e dove venga garantita protezione, sicurezza e privacy. Eventuali accompagnatori inizialmente saranno allontanati e soltanto successivamente potranno raggiungere la donna nell'area privata. Per quanto invece riguarda la donna accompagnata da figli o figlie minori, questi ultimi potranno restare vicino alla madre e potranno essere avviati ad un percorso a loro dedicato con il coinvolgimento delle unità operative di pediatria. Infatti è importante ricercare la condizione di violenza agita anche nei confronti dei minori, in maniera diretta oppure in maniera indiretta come violenza assistita. L'operatrice operatore del pronto soccorso che avrà effettuato la prima accoglienza e che prenderà in carico la donna avrà cura di utilizzare una corretta comunicazione, soprattutto utilizzando un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche a donne straniere e a quelle affette da qualche difficoltà sul piano sensoriale cognitivo-relazionale. Si adopererà inoltre per instaurare un rapporto basato sulla empatia e sulla fiducia in modo da facilitare il passaggio alle fasi successive di presa in carico di agnosi e cura, sempre nel rispetto della libertà e dell'autodeterminazione della paziente. A questo punto sarà poi necessario anche informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del percorso sanitario e anche sulla possibilità di scelta da parte della stessa donna su cosa dire o non dire, cosa accettare o non accettare tra le proposte di cura sanitaria. In questo modo si potrà ottenere un consenso informato da parte della donna stessa. In nessuna maniera la donna dovrà sentirsi incalzata dalla fretta e dall'urgenza. La fase di presa in carico ambulatoriale da parte dell'equip medico-infermieristica consta di numerosi fasi. La prima è quella della raccolta anamnestica che avverrà in maniera delicata ma anche accurata. In particolar modo saranno esplorati eventuali ulteriori accessi in pronto soccorso per episodi ulteriori di violenza e quindi per traumatismi ed aggressioni e sarà anche indagata la presenza eventuale di patologie che possono avere una qualche correlazione con la condizione di violenza. È importante poi valutare la storia socio-familiare e soprattutto raccogliere in maniera attenta e particolareggiata il racconto dell'evento, a volte utilizzando le stesse parole della donna e mediante l'utilizzo del virgolettato. Qualora la donna dichiari le generalità dell'aggressore, queste saranno riportate nella relazione di pronto soccorso, come anche sarà richiesto alla donna un numero telefonico sicuro in modo da poter essere rintracciata in caso di necessità. Al termine dell'ascolto anche il medico e l'infermiere o infermiera presenti in ambulatorio informeranno la donna sulle diverse fasi della visita in modo tale da avere un suo consenso. Inoltre il medico informerà la paziente sull'eventualità che si debbano raccogliere campioni o materiali a finalità medico legale e fornirà l'informazione in merito anche al fatto che qualora nel corso del percorso si apprendano notizie di reato perseguibile ed ufficio in qualità di pubblico ufficiale sarà tenuto a fare rapporto e segnalazione all'autorità giudiziaria. La fase di esame obiettivo, cioè la visita medica, tenderà a valutare tutta la superficie corporea alla ricerca di segni, lesioni, attuali o pregresse, verificando la congruità con la dinamica che viene riferita dalla paziente. Saranno anche descritte zone apparentemente indenni ma sedi di dolorabilità. Verrà inoltre prestata attenzione a descrivere le condizioni generali della vittima, il grado di collaborazione durante la visita e soprattutto verrà prestato una particolare attenzione allo stato emotivo della donna. Questo perché di fatto solo recentemente lo stato emotivo viene valorizzato e considerato nella poi espressione del giudizio prognostico. In passato nella realtà la prognosi valorizzava solo ed esclusivamente l'entità di lesioni che venivano oggettivate. Non dimentichiamo anche l'importanza di descrivere l'eventuale comportamento anomalo in presenza di un accompagnatore che a volte potrebbe essere parte in causa nella violenza agita e subita da parte della donna. È fondamentale, e ancora una volta va ribadito, il fatto di prestare particolare attenzione ad intercettare e a riconoscere i casi di violenza e maltrattamento non dichiarati, soprattutto quando riguardano i gruppi di popolazione più fragili. Ci riferiamo a donne con limitate risorse, a straniere, a bambini, a diversamente abili, ad anziani, come anche sarà necessario tenere conto e rispettare le differenze culturali e religiose, i limiti linguistici e di espressione. In merito al consenso informato abbiamo già di fatto detto qualche cosa, è importante comunque che l'informazione consenta alla donna di accettare oppure di porre un diniego a quello che viene proposto. Dopo aver accolto, ascoltato e valutato la paziente in ambulatorio, si passerà alla fase di prescrizione del trattamento delle lesioni fisiche riscontrate, alla prescrizione delle indagini diagnostiche che sono adeguate al caso, all'attivazione di consulenze specialistiche considerate necessarie e anche alla messa in atto di tutte quelle azioni preventive secondarie che possono, diciamo, aggravare e mettere in pericolo ulteriormente la donna. Ci riferiamo in particolare maniera ai casi di contatto con materiale biologico che potrebbero esporre a malattie, in particolar modo quelle sessualmente trasmesse, per cui sarà necessario mettere in atto le opportune terapie di profilassi. La stessa cosa va riservata come attenzione alla valutazione del rischio di eventuali gravidanze indesiderate. Si procederà poi alla compilazione accurata ed esaustiva della relazione di pronto soccorso utilizzando anche ausili particolari come ad esempio schemi corporei già pronti che ci permettono di non dimenticare nulla e di effettuare una relazione e di dare un contributo importante al percorso medico legale qualora la donna abbia intenzione di attivare una sua tutela giuridica. In merito alla somministrazione del questionario di valutazione del rischio di maltrattamento grave BRADEF e in merito al colloquio di refertazione psicologica parleremo tra breve. Mi preme però soprattutto valorizzare il ruolo della infermiera o infermiere presenti in ambulatorio perché sono parte integrante del percorso della donna. Il professionista assicurerà la sua presenza nel corso di tutta la visita, procederà a rilievo dei parametri vitali ad eseguire gli accertamenti prescritti dal medico, collaborerà alla raccolta e all'acquisizione di reperti, somministrerà le terapie opportune e contribuirà comunque, collaborerà a garantire la tutela, la privacy e a fornire informazioni sul percorso ospedaliero e territoriale per le vittime di violenza. Passiamo poi alla fase di dimissione e ricovero. Il medico alla fine del percorso dovrà considerare diverse opzioni per la donna convissuto di violenza. La donna avrà bisogno di essere ricoverata o essere trattenuta in regime di osservazione breve intensiva, potrà essere invece dimessa a domicilio con tutte le informazioni necessarie sui servizi sociosanitari a supporto delle vittime di violenza, potrà essere dimessa però in condizioni di protezione. Tutte queste differenti opzioni saranno fortemente condizionate da una serie di fattori, ad esempio dal danno subito o dalla gravità ed entità delle lesioni riportate, oppure dalla rilevazione di un rischio importante di reiterazione della violenza e di rischio per l'incolumità della donna, dalla disponibilità di risorse familiari e amicali che possono accogliere la donna in condizioni di sicurezza, dalla presenza di figli minori oppure dalla volontà della vittima. È proprio in questo momento, in questa fase, che un ruolo primario potrà essere giocato dai servizi sociali chiamati appunto a rispondere al bisogno. L'assistente sociale attivabile 24 ore su 24 nella nostra realtà e 7 giorni su 7 potrà fornire un contributo a vario livello, potrà di fatto fornire tutte le informazioni necessarie sulle risorse di cui la donna può valersi al momento della dimissione facendo riferimento a istituzioni territoriali, potrà valutare in maniera più accurata con mezzi più complessi la condizione di potenziale rischio della donna, come anche potrà offrire alla donna una ospitalità in strutture individuate precocemente e dedicate a questa causa. Per quello che riguarda invece il medico di pronto soccorso, per poter decidere in maniera più precisa in merito alle diverse opzioni di dimissione, potrà valersi del questionario BRADEF. Attraverso poche semplici domande in maniera molto rapida il medico riuscirà ad individuare una serie di indicatori che possono individuare il rischio di letalità e di recidiva di maltrattamento grave. Nella realtà comunque dobbiamo assolutamente affermare un concetto che il migliore indicatore di rischio per la donna è il sentimento di paura che lei prova per la propria incolumità e per quella dei propri figli. Quindi qualora la donna sia impaurita e lo manifesti in maniera palese, questo deve essere considerato un motivo sufficiente per pensare a una messa in protezione della donna. Il medico è tenuto a portare a compimento una serie di passi burocratici che non stiamo a elencare in questo momento, ma comunque sarà importante per il percorso successivo della donna che subisce violenza avere un referto a disposizione con una diagnosi molto precisa e circostanziata, avere le indicazioni terapeutiche e comportamentali che dovrà in qualche maniera utilizzare a tutela della sua salute come l'avvio verso l'attività e le competenze del medico di medicina generale o il riferimento a un medico specialista. La relazione di pronto soccorso dovrà esprimere una proniosi adeguata non solo alle lesioni fisiche ma anche al danno psicologico, dovranno essere effettuati i rapporti all'autorità giudiziaria nei casi previsti, dovrà essere sempre garantita l'esenzione dal pagamento del ticket. Alcune cose ulteriori prima di passare alla fase finale di questa relazione. In merito ai servizi sociali abbiamo già avuto modo di parlare. Va comunque citato il ruolo importante anche dei centri antiviolenza referenti per i territori, per i vari territori e la informazione e la consegna in collaborazione con il personale infermieristico da parte del medico di materiale informativo riguardante le associazioni di aiuto alle vittime di violenza rappresenta un passo fondamentale e quindi un avvio ad un altro importante attore della rete. Terminiamo questo percorso parlando da ultimo del colloquio di refertazione psicologica o meglio colloquio valutativo psicologico che potrà esitare nel referto psicologico. Si tratta di una prassi che non è distribuita uniformemente in tutte le regioni d'Italia e che rappresenta una peculiarità della realtà dell'azienda sanitaria romagna. Il colloquio valutativo psicologico deve essere considerato uno step fondamentale nel percorso della donna vittima di violenza. Si tratta di una prassi riservata alle donne di età maggiore di 18 anni che vengono avviate a questo momento da parte del medico del pronto soccorso. Il colloquio è effettuato da delle professioniste psicologhe e psicoterapeute adeguatamente formate e deve essere considerato differente sia dall'accoglienza e dal contenimento emotivo effettuato in emergenza dal personale del pronto soccorso sia dal percorso di sostegno finalizzato al trattamento della sintomatologia da stress e alla facilitazione del processo di affrancamento dalla violenza che viene diciamo portato avanti presso i centri antiviolenze e presso i consultori. Si tratta di una visita psicologica appunto a cui la donna maggiore di 18 anni è indirezzata e alla quale liberamente acconsente che costituisce un'opportunità di approfondimento del suo stato psicologico in un momento molto preciso prossimo agli eventi traumatici che scatta una sorta di fotografia di quanto la donna prova riferisce e sente nel momento presente e la sua funzione è quella di fornire elementi specialistici a supporto del percorso medico legale a tutela della donna ed è un compendio un'integrazione del referto di pronto soccorso. Prima di iniziare il protocollo valutativo la professionista fornirà tutte le informazioni necessarie affinché la donna possa dare la piena e consapevole adesione con sottoscrizione del consenso informato. Il referto psicologico costituisce quindi da una parte la raccolta del punto di vista della donna in merito alla sua sofferenza e alle conseguenze della violenza subita nella propria vita. Il punto di vista del professionista che avvalora quanto la donna riferisce con diagnosi e con valutazioni prognostiche appropriate che diano credibilità e validità alle parole e ai vissuti della donna riparandola anche da possibili danni di una vittimizzazione secondaria. È uno strumento valido in ambito giuridico. L'intervento consisterà in un unico appuntamento che viene effettuato a distanza di pochi giorni dall'accesso in pronto soccorso. Questo colloquio potrà essere eventualmente seguito da un colloquio di follow up a distanza di circa un mese. Sarà importante durante il colloquio chiarire alla donna prima dell'inizio che qualora si acquisiscano notizie di reato procedibile di ufficio la psicologa analogamente al medico di pronto soccorso sarà tenuta la segnalazione all'autorità competente. Durante il colloquio oltre alla raccolta del racconto con le parole della donna verranno somministrate batterie testistiche orientate ad oggettivare il danno psicologico e quindi a dare una dimensione alla sofferenza conseguente alla violenza subita. L'ambito privato dove il colloquio si realizzerà, separato temporalmente e fisicamente dal contesto di pronto soccorso, porrà le condizioni ideali per il recupero di ulteriori informazioni, per aumentare la consapevolezza in merito ai rischi per la salute e l'incolumità, per rafforzare le conoscenze sui servizi e la fiducia nei confronti della rete da parte della paziente e per effettuare il raccordo con i servizi sociosanitari territoriali chiamati a rispondere al bisogno. Al termine del colloquio una copia del referto letta e firmata dalla donna verrà consegnata alla stessa e che ne potrà usufruire nel suo percorso legale giuridico e un'ulteriore copia sarà archiviata a cura della psicologa. Siamo arrivati alle conclusioni. Possiamo dire che il percorso in pronto soccorso della persona con esperienza di violenza rappresenta una sfida non soltanto per la donna ma anche per il personale sanitario. Infatti il personale di pronto soccorso che passo dopo passo è chiamata ad accompagnare e presidiare questo difficile viaggio della donna in emergenza non potrà affermare di aver portato a termine il proprio compito senza aver preso in considerazione tutti gli aspetti di questa delicata e drammatica esperienza. In particolare senza aver garantito oltre a quanto previsto dal punto di vista prettamente sanitario, sostegno umano e psicologico e senza aver reso disponibili tutte le informazioni riguardo agli strumenti di cui la donna può valersi per uscire dal suo vissuto di sofferenza. Alla fine di questo percorso mi preme informare coloro che sono interessati alla tematica che nella giornata del prossimo 25 novembre in occasione della giornata dedicata al contrasto della violenza verso le donne sono previste delle iniziative e momenti di approfondimento ulteriori proprio su questo tema e per cui per coloro che sono sensibili a questo argomento ci sarà l'occasione per poter valutare ulteriori aspetti di questa piaga che caratterizza sostanzialmente la nostra quotidianità e possibilità anche di comprendere il lavoro di tutti gli altri professionisti che sono chiamati appunto a costituire la rete di accoglienza e di protezione. Grazie a tutti per l'attenzione.